ciao a tutti sono maria carmela germinario ho quasi 40 anni e vengo da termoli una bellissima cittadina sul mare in provincia di campo basso nella vita di tutti i giorni gestisco un centro estetico è un lavoro che mi piace tantissimo e che mi ha dato tante soddisfazioni sono mamma di sofia 12 anni è una ragazzina con cui ho un rapporto molto speciale e mi ritengo davvero tanto fortunata mi definisco una mamma dinamica piena di energie ma anche tanto dolce nei miei hobby c'è sicuramente lo sport amo andare a correre riva al mare e da circa un anno pratico una disciplina che mi appassiona tantissimo che il crossfit dove riscontro un miglioramento fisico ma anche emotivo in quanto in ogni workout tira fuori il meglio di me e quindi migliora la mia autostima tra le mie passioni c'è sicuramente quella dei viaggi che condivido con la mia famiglia prediligiamo mete esotiche ma siamo anche degli ottimi sciatori in inverno da qualche mese ho intrapreso un corso di teatro e sono felicissima di questa scelta perché devo dire che sto riscontrando un miglioramento a livello caratteriale in quanto riesce a tirare fuori il meglio di me sono una donna che cura tantissimo il suo aspetto esteriore penso che questo sia dovuto al lavoro che faccio perché come vi dicevo prima io sono un estetista ma anche perché sono cresciuta con la convinzione che il nostro corpo sia un patrimonio da mantenere quindi faccio tantissimo sport per migliorare la mia fisicità ma sono anche molto attenta ai dettagli per cui curo molto le mani i piedi faccio dei trattamenti estetici sia per quanto riguarda il viso che per quanto riguarda il corpo ho una passione molto grande che è quella dei capelli quindi li curo tantissimo penso che il messaggio che debba passare è che prendersi cura di sé amarsi ci aiuta a star meglio con noi stessi ma di conseguenza anche con gli altri decido di partecipare a miss mamma web 2020 perché sono una persona che ama mettersi in gioco e uscire dalla propria zona comfort prendo questo concorso come una sfida contro me stessa e perché no essere anche un esempio per mia figlia e dimostrare che nella vita se vuoi puoi puoi superare le tue paure e certezze cercando di migliorarti ogni giorno di più attenzione attenzione Grazie a tutti. Votatemi perché non sono solo una mamma dinamica e dolce, mi ritengo anche molto simpatica, sono molto attiva sul web con il mio profilo Instagram, da qualche mese sono testimonia di alcuni brand e quindi penso che questo titolo sia perfetto per me. Un caloroso abbraccio e un bacio a tutti.